Il cittadino non può fare altro che affidarsi alle associazioni dei consumatori e alla sinergia tra inquirenti ed investigatori. La dovessa però trova il supporto di un'equa ed adeguata normativa. Lo ha detto senza peli sulla lingua il presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Salerno, Claudio Tringali, questa mattina a Roccapemonte, durante un convegno sul tema agromafie, tutela del territorio, legalità, competitività ambientale dei prodotti agroalimentari campani una materia, è stato detto a più riprese estranea quella di cui si occupano i giudici penali, innanzitutto per l'insufficienza della normativa sia nazionale che comunitaria. Rimarcata l'eccessiva facilità con cui questo tipo di reato viene prescritto, denunciata anche l'insufficiente allestimento dei mezzi di contrasto e repressione, dato oggettivo se si tiene conto, ha detto il presidente Tringali, che sono davvero pochi i processi che hanno per oggetto le ecomafie. Risultati magri, dunque, di cui occorre prendere atto per un'operazione di collegamento tra le forze sociali ed economiche, istituzionali e politiche. Il problema, secondo i relatori del seminario di questa mattina, è che si segue sempre lo stesso copione. Le questioni gravi vengono delegate solo ed esclusivamente alle forze di polizia ed alla magistratura. Urge invertire il modo di ragionare. Associazioni, operatori economici, amministratori possono ottenere risultati solo e soltanto lavorando insieme. Anche nel campo delle agromafie è stato rilanciato, si vince con la cultura, a patto che la cultura sia supportata da chi ha il dovere di fare leggi che tutelino gli operatori economici che scelgono di muoversi nel solco della legalità. Il problema è che di fatti finora se ne sono visti pochi e invece di parole se ne spendono tante e questo non va bene. Oggi sono insieme produttori, istituzioni locali, enti locali, comuni. Ci siamo noi, magistratura, c'è la guardia di finanza, la DIA, c'è una serie di forze che presenti sul territorio se agissero nell'ambito di un quadro normativo più efficiente e migliore di quello scarso che abbiamo a disposizione potrebbero produrre dei risultati importanti. In tutto questo quadro che ruolo gioca l'opinione pubblica, che ruolo gioca il Comune cittadino? Innanzitutto l'informazione e la sensibilizzazione. Il Comune cittadino può fare ben poco, può soltanto essere tutelato dalle associazioni dei consumatori e naturalmente dallo Stato se interviene in maniera decisa e non come ha fatto finora. Delle agromafie bisogna dire che la presenza della mafia, dell'Andrangheta e della Camorra è una presenza storica, anzi la mafia nasce proprio nelle campagne con altre modalità in altri tempi naturalmente e quindi da sempre ha provato ad esercitare un controllo su questo settore. Oggi naturalmente le tecniche sono molto più raffinate, la capacità di controllo, di infiltrazione sono sofisticatissime. In un settore che da un lato produce ricchezza costantemente perché il settore dell'alimentazione e della produzione di cibo è il primo settore al mondo, comunque al di là di altri settori pure importanti e oggi e quanto mai nella mirina o nell'attenzione generale perché è diventato un fattore pure da un lato per superare la crisi ma anche per rilanciare un'altra immagine del nostro paese, un paese produttivo, un paese che ha grandi tradizioni alimentari ma anche di produzione di prodotti di alta, altissima qualità. Sì, è un tema molto delicato, molto importante. Io da pochi mesi ho avuto l'incarico dall'Aggiunta regionale di direttore generale alle politiche agricole, alimentari e forestali della regione campania e ho immediatamente colto questo aspetto su input preciso dell'assessore Nugnes come un aspetto fondante. Il tema delle agromafie è un tema sul quale devono convergere tutte le energie possibili per mettere in campo le strategie più idonee per combattere questo fenomeno. Da un recente rapporto della Goldirette e dell'Urispes è emerso che un volume d'affari del sistema malavitoso attorno alle agromafie ammonta 12,5 miliardi di euro. Quindi parliamo di cifre importanti. La Campania è una regione che si arricchisce di un patrimonio di eccellenze straordinarie e quindi vanno assolutamente tutelate e quindi in questo senso vanno messe in campo tutte le iniziative possibili per replicare, resistere e combattere questo fenomeno.